Ben trovati negli studi di Jant, musici e sbandieratori del Sestiere Giallo Blu di Porta Solestà in rappresentanza della Quintana di Ascoli sono campioni d'Italia. Ne parliamo con due ospiti graditi nei nostri studi, Luigi Lattanzi che è capo sestiere e Massimo Massetti in qualità di vicepresidente della FISB, Federazione Italiana Sbandieratori. Grazie della vostra disponibilità. Prego. Dunque Lattanzi, vincere è sempre bello e questo è fuori dubbio, però vincere e essere premiati a Piazzarringo sicuramente ha una valenza maggiore. Sì, questo lo possiamo veramente testimoniare in quanto già Porta Solestà era stata campione d'Italia nel 2005 quando Massimo all'epoca era uno dei responsabili del gruppo sbandieratori di Solestà e anche lì in quella occasione ci aggiudicammo il titolo di campione d'Italia. Fu una bellissima, grandissima soddisfazione perché chiaramente fu il primo titolo di campione d'Italia di un sestiere ascolano però fuori città, fuori dalle mura ascolane. Invece questa volta vincere a Piazzarringo tra gli ascolani dove tutti gli ascolani appunto hanno potuto vedere le qualità e le capacità anche degli avversari è stato di una valenza nettamente superiore e una soddisfazione immensa. Ovviamente voi rappresentate un gruppo molto vasto, questo ai nostri amici di Yant lo diciamo, non possiamo avere tutti i musici e gli sbandieratori per ovvi motivi ma i complimenti della nostra redazione va a tutto il gruppo anche perché ci teniamo a ricordarlo che non si sbandiera dalla mattina alla sera c'è un allenamento che dura tutto un anno quindi c'è una preparazione lunghissima da parte di questi ragazzi magari Massimo visto che è stato anche sbandieratore può dirci proprio quanto è lungo questo cammino di preparazione? Sì, è una preparazione fatta con una certa accuratezza, è una preparazione che inizia il giorno dopo dei campionati direi quindi i ragazzi si riposano veramente solo qualche giorno e poi riprendono subito sia dai successi sia dagli insuccessi per cercare di migliorare e trovare sempre qualcosa in più per arrivare sempre più in alto e raggiungere dei traguardi sempre più alti diciamo che quello che si è visto ad Ascoli veramente è stato qualcosa di strepitoso perché abbiamo visto dei campioni veri all'opera e questo è frutto appunto di tante ore di allenamento Tutti con gli occhi sbarrati a guardare i baralli con questo singolo ha vinto per la settima volta consecutiva è veramente un campione, un fenomeno e ho visto persone addirittura col telefonino, lo smartphone fare le riprese su YouTube ce ne sono davvero a centinaia però il singolo è a questione a parte musici sbandieratori come si mettono insieme nella grande squadra? Guardando sembra tutto naturale però insomma dietro dicevi c'è un lavoro complesso come nasce un numero? Semplificando per chi ci sta vedendo prima si pensa alla coreografia, poi al suono, come funziona? Sì hai detto bene, il singolo è qualcosa che magari un ragazzo è portato e con l'allenamento si può migliorare invece una squadra è qualcosa che viene progettato e pianificato nasce sulla carta dove il responsabile tecnico della bandiera e il responsabile tecnico dei musici pianificano quello che sarà poi il lavoro futuro poi piano a piano seguendo diversi step si comincia a costruire il numero che non è detto che sia proprio quello che è stato pianificato sulla carta perché poi portare dalla realtà quello che è stato progettato magari si potrebbe verificare qualche piccolo inconveniente quindi il lavoro è ancora più duro di quello che si può immaginare ci vogliono tante ore, tanti sacrifici e sicuramente nervi saldi perché spesso quando ci sono 30-35 persone assieme è dura da gestire un gruppo così per tante ore Tra l'altro Ascoli ha tenuto alto proprio il nome della bandiera perché tre sono i sessieri che hanno partecipato, lo ricordiamo oltre a Porta Solestà, Porta Romana e Porta Maggiore che comunque hanno fatto un'ottima figura Parlando invece del tuo ruolo in FISB, tu sei vicepresidente della federazione che tipo di impressione puoi riportarci rispetto a questa tenzone aurea? Ha fatto davvero centro Ascoli? Beh, più che impressione abbiamo dei dati oggettivi perché dalla sera della chiusura dei campionati fino ad oggi è stato un susseguirsi di messaggi, di telefonate e quant'altro che possano in qualche modo evidenziare la bravura di Ascoli in organizzazione Da questa duplice veste, da vicepresidente della federazione Ascolano Purosangue posso essere veramente orgoglioso di quello che ha fatto Ascoli e sono convinto che Ascoli sarà un punto di partenza per i futuri organizzatori dei campionati perché davvero ha dato quel qualcosa in più che da anni non si vedeva in federazione Con voi in studio l'argomento non può non scivolare sul discorso Quintana proprio come giostra pura Parliamo di velocità, Lattanzi, lei come caposessiere da sempre guida i giallo-blu c'è un vero e proprio connubio con Luca Innocenzi che è il vostro cavaliere di Fonigno che è insomma pluricampione, ha portato a casa tanti pali per la gioia appunto dei solestanti Quest'anno la velocità è finita un po' sotto accusa e per un attimo si è detto anche dobbiamo cercare di moderare la velocità però chiaramente lei è stato sarcastico, ha detto no, la velocità non si tocca non possiamo snaturare la nostra Quintana Sì, perché il presupposto della giostra è raggiungere il maggior numero di punti che si conseguono sia al tabellone che percorrendo nel minor tempo possibile il percorso di gara quindi regolarizzando la velocità a mio parere si andrebbe a snaturare quella che è la Quintana da sempre, che è quella che è stata fino ad oggi si andrebbe a modificare in maniera drastica un regolamento che esiste da un altro anno, sono 60 anni mentre io andrei evidentemente a incidere sul regolamento per rendere la giostra più trasparente nel senso buono del termine, cioè più chiara per gli spettatori voglio dire, dobbiamo mettere in condizione gli spettatori di capire quando un cavaliere fa centro dobbiamo mettere in condizione gli spettatori di capire, di vedere, di leggere la giostra anche quando un cavaliere fa una penalità con le tavolette dobbiamo secondo me migliorare il regolamento per renderla più chiara, più leggibile da parte di tutti gli spettatori inoltre io non toccare la velocità anche per un motivo molto semplice, molto evidente e lampante la gara più è veloce e più è spettacolare però quali sono i correttivi? lei dice trasparente, ci faccia due o tre esempi delle cose che andrebbero fatte io posso usare gli esempi di Foligno non perché voglio copiare Foligno assolutamente perché Foligno ha le sue caratteristiche, noi abbiamo le nostre solo perché tanti quintanari ascolani vanno a Foligno e vedono la quintana a Foligno e quindi la vivono e la vedono faccio due esempi a Foligno quando un cavaliere prende l'anello o sbaglia l'anello lo vedono tutti poi la giuria formalizza questo fatto quando il cavaliere riconsegna gli anelli quindi se ne sono due o tre è chiaro che la giuria formalizza però dopo che il pubblico lo ha visto quando un cavaliere fa cadere una bandierina quindi fa penalità tutti gli spettatori sono in grado di vedere questa cosa in questa maniera a mio parere si agevola anche il compito della giuria e si rende meno aspra la competizione si migliora perché si vive in maniera più serena in quanto è tutto molto più chiaro e trasparente appunto L'attanzi fa rima un po' con incompatibilità ogni volta che parliamo di quintana si torna anche su questo tema lei più di una volta ha detto io sono un quintanaro prestato alla politica sì perché io sono quintanaro da 45 anni avevo 15 anni quando ho iniziato quest'anno ne ho con più di 60 quindi sono 45 sono fiero di questo perché è una grande passione la mia nei confronti della quintana quindi della mia città per cui coniugare il fatto di essere quintanaro con l'essere anche amministratore non perché lo decido io ma perché evidentemente sono stato votato sia a livello amministrativo che a livello quintanaro per cui visto che gli attuali regolamenti sia elettorale che di giostra che lo statuto dell'ente quintana o lo statuto del comune di Ascoli non prevedono questa incompatibilità io ritengo di dover e poter e voler esercitare quello che ritengo essere un diritto io voglio concludere anche perché se mi consenti prestato alla politica in quanto io invece di usare la quintana per fare politica ho usato la politica per fare le cose per la quintana sedi dei sestieri, campo squarcia eccetera anche quest'anno per quanto riguarda l'organizzazione per esempio dei campionati italiani ovviamente io ho spinto affinché Ascoli presentasse la sua candidatura perché sapevo la valenza in ambito quintanaro ma anche perché sapevo l'importanza che poteva avere per la città dal punto di vista turistico un evento del genere quindi il coniugare l'essere quintanaro con l'essere amministratore sinceramente io vedo tanti aspetti positivi poi però questo è il mio punto di vista che chiaramente è molto di parte dunque ci sarà una grande festa tornando al discorso musici e sbandieratori vogliamo fare un appello sicuramente saranno tutti a conoscenza però domenica c'è un appuntamento al sestiere di Porta Solestà per festeggiare degnamente lei ha detto Lattanzi questo titolo italiano sì, domenica per l'ora di pranzo tutti i solestanti ma anche i non solestanti sono invitati presso la taverna del sestiere per festeggiare questo titolo italiano molto ambito, molto desiderato molto voluto dai nostri ragazzi e da tutto il sestiere in generale però io vorrei invitare non solo i solestanti ma anche gli ascolani gli altri quintanari ascolani perché è vero ha vinto Solestà però ha vinto Ascoli ha vinto Ascoli davanti a città come Faenza, come Ferrara come Montagnana che sono, per quanto riguarda la tradizione del gioco della bandiera sono molto forti però questa volta Ascoli ha dimostrato di essere più forti di loro e quindi, come ha detto prima lei all'inizio, vincere il titolo italiano ma vincerlo in casa è ancora più bello La vittoria è tutto un altro sapore grazie dunque a Luigi Lattanzi capossessiere di Porta Solestà per essere stato nostro ospite a Massimo Mazzetti vicepresidente FISB ovviamente ancora da parte di Iante i nostri complimenti grazie grazie grazie